Giacomo ed Emma oggi sono una coppia felice. Pensare che appena qualche settimana fa il loro matrimonio stava per naufragare in una vasca da bagno. Ogni mattina la stessa storia. Giacomo ha fretta di andare al lavoro e in bagno c'è sempre Emma avvolta in una nube di vapore. Per lei non c'è relax senza acqua bollente. Per lui non c'è pace senza risparmio. Non che in salotto le cose andassero meglio, Emma è super freddolosa ma ai maglioni pesanti preferisce riscaldamenti sempre accesi. A Giacomo invece per prendere fuoco bastava aprire certe bollette. Oggi per fortuna va decisamente meglio. Emma è sempre la stessa ma Giacomo ha seguito i consigli di Estra e ha cambiato caldaia. Scegliere quella condensazione conviene. Riduci le spese del 30% e in più puoi usufruire di una detrazione fiscale del 65%. Grazie a una tecnologia efficiente ed ecologica consumi meno e quindi inquini meno. Con Estra hai una garanzia di 5 anni e un pacchetto chiave in mano. Senza contare che puoi scegliere un finanziamento con rate da 39 euro al mese e puoi acquistare il modello che preferisci direttamente online dall'e-commerce di Estra. Dai Giacomo che un bel bagno caldo non è poi una cattiva idea. Con Estra. Il futuro è oggi.